Ciao, bravo, sogni del papagallo, a niente stiamo vendendo un successo con questo libro, qualcosa di eccezionale, stiamo vendendo proprio un neggiene a Pessini, novanta, in Maurizia, ania, un ne spaggia e chiede, bai a sui con un grudestino, un successo strutturato, senti, ti voglio adesso citare il passo 32esimo del capitolo 9, dove praticamente viene trattato il quesito, il posto dal ragazzino che è arrivato a 18-19 anni e ci ha cominciato a cacare minghi a 6.000 al pappo e ci ha cominciato a domandare, papà, voglio andare a vivere da solo, come rispondere? Ficchissu che minghi, nico, nico, te ne vuoi andare a vivere da solo? A un ne spaggia e chiede, no, che non ci ha fai manca a cacare di mutanni? Ficchissu che, ma un ne spaggia e chiede, ma ci ha fai a meno a stare a strada, bastardo, che te ne vuoi andare a vivere da solo? Ah, non ci puoi, lo sai, vecchie, non ci puoi, vecchie, te ci vanno, io, appedate in davanza, appedate in d'oculo, figchissu, ma un ne spaggia e chiede, ma se non ci ha fai manca a cucinare di nuovo, ma se non ci ha fai manca a mettere di quasi da mattina, figchissu che, te ne vuoi andare a vivere da solo? Bastardo, io, sto macchie, che ti mettono da testa queste cose, vecchie, e d'ora c'ha queste cose dell'impedentismo, dell'autonomia, figchissu che minghi, no, fa tempo, te lo faccio un bucolo, mentre tu te ne vuoi andare a vivere da solo, te non ci ha fai manca a cattare di gelato, manca un galippo, figchissu che, te lo faccio un bucolo, campagna, c'è vanno per buttare giù, ma la dieta, grandissima, su che minghi, no, mamma, te ne vuoi andare a vivere da solo? Brote, innaquile, dicimando io, vivere da solo un basato, figchissu, aga non mi, aga non mi cagare tutta sopavante, guardi l'ide ora, bastardo, schifoso, due toma, ciao, barabara